È una scuola ovviamente sicura, ma soprattutto è una scuola bella, perché è adeguata da un punto di vista pedagogico, è a impatto ambientale zero, è autosufficiente dal punto di vista energetico, è completamente green nei materiali. Insomma, noi stiamo disegnando quelle che sono le scuole del futuro, non soltanto da un punto di vista strutturale, ma anche da un punto di vista di organizzazione degli spazi. Sta per aprire il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido in Via Colombo, pensato e realizzato secondo i criteri più aggiornati in tema di sicurezza e sostenibilità, in grado di accogliere in tutto 50 bambini. 50 nuove opportunità, quindi 50 nuovi posti per i bambini, di cui 10 per la fascia 3-12 mesi. Noi in questo momento siamo un comune virtuoso, perché abbiamo una lista di attesa dai 3 mesi ai 6 anni, sotto il 20%, ma tutta questa lista d'attesa è dai 3 ai 12 mesi, quindi il nostro obiettivo è la lista d'attesa a zero, ci siamo già sostanzialmente a zero dai 12 mesi ai 6 anni, adesso il nostro obiettivo è portare a casa anche questo risultato complessivo. La scuola sorgerà tra Via Colombo e Via del Vingone e sarà su un unico piano di forma rettangolare, costruito con materiali e tecniche di bioedilizia. Un importo di 1.800.000 euro, completamente finanziato dal PNRR, il finanziamento è completamente, come dicevo, finanziato dal piano nazionale di presa e resilienza, proprio perché a seguito di una valutazione di quelli che erano gli interventi da portare ai nostri immobili, siamo riusciti a portare avanti proprio questo progetto, che riguarda anche un po' le esigenze del PNRR, quindi in tempi non sospetti, quando ancora non conoscevamo il piano nazionale di presa e resilienza, avevamo proprio deciso, insieme all'ufficio scuola, di portare avanti questo intervento, dando una risposta in termini di efficienza energetica e questo è stato un punto a favore che il PNRR ha valutato e che ha deciso anche di finanziare questa opera. Quindi la progettazione di questi immobili, oltre a dare una risposta in termini proprio di risposta all'educazione, dà una risposta importante anche in termini di efficienza energetica. La nuova scuola dovrà vedere la luce entro la scadenza del 2026, prevista dal piano di rinascita e resilienza.